Ci sono vari modi per cercare di gestire i propri account di trading ed evitare soprattutto di fare errori che poi ci costano anche dei soldi. Per chi volesse avvicinarsi al mondo del trading, oggi ragazzi vi faccio un tutorial dell'unico exchange ormai che sto utilizzando per questo scopo nel mondo delle cripto e anche non solo, ora lo scopriremo. Sto parlando appunto di BingX, ragazzi BingX è forse il migliore in assoluto che c'è in circolazione, non lo dico perché lo devo dire, lo dico perché veramente li ho provati quasi tutti ragazzi per lavoro, sono costretto oltre al fatto che anch'io faccio le mie operazioni ma poi sono comunque costretto a conoscerle le altre e lo sapete, quindi le ho provate veramente tutte e difficilmente ho trovato qualcosa di più user friendly e migliore di BingX. Infatti anche i ragazzi dell'academy, della nostra academy, utilizzano BingX e molti mi hanno scritto cavolo è molto meglio rispetto a quello che usavamo prima perché in effetti ci troviamo molto meglio, è molto più semplice da utilizzare, anche l'applicazione è veramente molto smart. Quindi io se sei interessato ti lascio il link sotto in descrizione con il quale puoi avere ulteriori bonus al momento dell'iscrizione che BingX non richiede KYC, quindi non sei obbligato a fare il KYC, non devi dare documenti, basta l'email o numero di telefono, uno dei pochi rimasti e credo che rimarrà anche per i prossimi mesi così, quindi sfruttatelo finché c'è questa anche opportunità per mantenere l'anonimato. E ragazzi ci sono tantissime cose che si possono dire su questo exchange che mi porta a consigliarvelo. Il fatto per esempio che è ottimo sia per gli investimenti spot ma sia anche per il trading futures. Intanto è uno dei pochi per esempio che nei derivati vi divide i perpetual dagli standard. Se non sai che cos'è ti consiglio appunto di studiare un po' come funziona il trading a leva nel mondo delle cripto. E non tutti gli exchange lo fanno, tendenzialmente vi danno uno standard futures e addio. Loro invece ve lo dividono anche per difficoltà di utilizzo e semplicità di gestione. Quindi basta che voi scaricate l'applicazione con il link che vi lascio sotto e trovate più o meno anche una guida abbastanza elementare di come utilizzare e gestire le vostre posizioni all'interno di questa piattaforma. Poi ovviamente vi offre il copy trading ragazzi, il copy trading che sapete essere uno dei metodi che anche io ho testato come metodo di guardagno passivo. Utilizzatelo più come un gioco e la cosa ancora più figa è che per chi volesse imparare proprio a fare trading ha anche dei fondi di prova con cui fare trading gratuitamente. Quindi link sotto in descrizione così potete imparare e tra l'altro se utilizzate il mio link avete anche dei bonus di prova appunto che arrivano fino anche a 200 dollari che vi consentono di fare trading giocando fondamentalmente con dei soldi che non sono manco vostri. Quindi più di così e potete utilizzare fino ragazzi, la cosa ancora più wow è che potete utilizzare fino a una leva veramente al limite del gambling del 150x. Leva che vi sconsiglio di utilizzare se non nei fondi di prova se volete giocare e volete fare un po' di gambling. Però è una leva molto molto alta comunque superiore alla leva che vi danno la possibilità di utilizzare altri exchange. Come vedete poi la panoramica del grafico, dell'order book e della gestione anche delle varie ramificazioni di token. Vedi, le divide anche su gruppi, gruppi di meme coin, stable coin, game five. Quindi vi va anche a dividere proprio per categoria quelle che sono le cripto. L'interfaccia è molto semplice da utilizzare. Come potete vedere anche ragazzi, vi faccio vedere un'altra cosa, è uno degli exchange più veloci a listare nuovi progetti ragazzi. E in più è un exchange dove potete trovare il tutto in uno. Perché? Perché trovate anche gli indici, trovate le materie prime e trovate il forex. Tutto tradabile con USDT, quindi ragazzi con le cripto voi andate a depositare all'interno di questo exchange i vostri USDT, accetta più o meno tutte le blockchain, quindi potete tranquillamente depositare con Tron, con Binance, Smart Chain, quello che volete. E pagare pochissime commissioni e andare a tradare sul forex. Quindi utilizzare le cripto per tradare il forex, per tradare le materie prime, per tradare gli indici e magari comprare e gestire a spot anche i vostri asset. Io vi consiglio come al solito di non lasciare mai ovviamente i vostri asset, soprattutto spot all'interno dell'exchange, ma di prelevarli e portarli sul vostro ledger, eccetera eccetera. Ma i fondi che potete utilizzare, ok, per fare trading, è la cosa figa che potete utilizzare tutti gli indici possibili, quindi è veramente tanta tanta roba. Poi il discorso del copy trading, come vi ho detto, è abbastanza elementare da gestire, basta andare qui, se sono copy trading, trovate immediatamente i trader in tendenza. La cosa interessante è che lui vi valuta anche i trader, vi dà proprio un voto, quindi a livello di rischio, quindi questo rischio 1 piuttosto che rischio 10, credo sia il massimo rischio 5, quindi più il trader è rischioso e più ve lo segna con un voto alto e colorato di giallo bar rosso. Mentre più il trader è un po' conservativo, quindi probabilmente farà poche operazioni, oppure leva bassa, eccetera eccetera, ma ve lo segna con un valore che va tendenzialmente vicino allo zero. Quindi anche questo è un ulteriore parametro che non trovate su altri exchange, cioè una valutazione, ovviamente algoritmica, ragazzi, non è che c'è una persona che valuta, però vi dà un indicatore in più che vi può facilitare, ok, nella vostra scelta. E poi l'applicazione, cioè ragazzi, l'applicazione, la vedete qui, è veramente semplice, cioè è proprio, credo sia la più semplice che ho trovato in giro da utilizzare sia per comprare le crypto, sia per fare trading. Quindi voi una volta che depositate i vostri USDT sulla rete più economica che avete, magari in quel momento, potete spostarli nelle varie sezioni gratuitamente, ovviamente questo lo fanno quasi tutti, ma velocemente, e poi lo gestite tutto dal telefono e potete aprire le vostre operazioni. Vedete come è anche differenziato proprio il portafoglio 1, portafoglio trading, portafoglio futures, portafoglio spot. Quindi questo, devo dire, è un grande punto al loro vantaggio. Un altro punto è, per esempio, la traduzione. Cioè ci sono exchange, ragazzi molto grandi, molto quotati, che hanno una traduzione in italiano che è pessima. Invece Bing Eats è tradotto perfettamente, cioè sembra fatto in italiano. Quindi anche questo è un vantaggio. Ci sono delle cose, per esempio, che su altri exchange non si capisce niente. Cioè sei lì a fare un'operazione e ti esce male la scritta in cinese, oppure tradotto in italiano fatta male. Invece su Bing Eats la traduzione è perfetta, è fatta veramente bene. Quindi devo dirvi che tra tutti gli exchange che ci sono in circolazione, io in questo momento sto operando quasi solamente ed esclusivamente su questo exchange. Quindi ho voluto parlarvene all'interno di questo video. Io spero che vi sia piaciuto. Comunque se avete qualche dubbio me lo potete scrivere qua sotto. Il link che vi lascio sotto in descrizione, che vi consiglio di utilizzare, è un link, ragazzi, che vi dà dei bonus, oltre che uno sconto sulle fee. Quindi vi consiglio di passare da lì, oltre a dare un sostegno e una mano al canale, in modo completamente gratuito. Ok, io spero quindi che questo video ti sia piaciuto. Ci vediamo alla prossima puntata. Lasciami un like, iscriviti al canale. Ciao! Ciao!